Crede di avere disturbi d'ansia? Sì. Disturbi di personalità? Sì. Depressione? Sì. Disturbi comportamentali? Alimentari? Gioco ad azzardo? No. Schizofrenia? Sì. Senti le voci? Ma non so cosa voglio dire. Schizofrenia, disturbo bipolare. Ma non dovremmo dire, lei è solo il disturbo bipolare. Ma io non sono lei. Lei è il medico. Quindi? Sono qui per conoscerla, non so nulla di lei, signorina. Il disturbo bipolare è quando si è soggetti a forti variazioni di comune. Sì, sono bipolare. Quante cose abbiamo in comune? A parte il gioco ad azzardo. Si? Grazie.